Il progetto europeo Alcotra Il progetto è quella di mettere a confronto la professionalità nel settore della ristorazione fra ragazzi italiani e ragazzi francesi affinché concluso il corso ci possa essere anche proprio uno scambio di esperienze, ragazzi italiani che possono lavorare in Francia e ragazzi francesi che possono lavorare in Italia. Due anni di esperienza ci hanno consentito di andare per due volte in Francia a Lione al Salone dei Mestieri e quindi nell'ambito di questo salone presentare il settore della ristorazione e le eccellenze della provincia di Savona. Quest'anno poi c'è stata anche un'ulteriore occasione di scambio con la zona della Savoia e qui oggi abbiamo la restituzione di questo scambio. Ci sono due chef di questo liceo di Chalet Zoo in Savoia che vengono a raccontare i prodotti tipici e i piatti tipici della zona della Savoia. Questa iniziativa secondo me ha un aspetto positivo per quello che può riguardare la cultura e la formazione dei ragazzi, cioè l'abbandonare un pochino il concetto di folcloristico eccessivo conoscendo altre esperienze, secondo me ai ragazzi li porta veramente a raggiungere obiettivi maggiori di quelli che sono stati in passato, tant'è che le grandi cucine oggi in Italia racchiudono questo aspetto, cioè l'esportare le proprie conoscenze e importare le conoscenze di altre nazioni dove i prodotti e le culture sono diverse, per cui questo arricchisce veramente il nostro panorama gastronomico rendendolo di qualità. Ci sono dei ragazzi bravissimi, bravissimi e stimolati. Bolognati, volenterosi, piace il loro lavoro. Tanti loro stanno rispettando gli orari classici della ristorazione che stanno mangiando tra meno un quarto. L'area professionale di questo corso attraversa parecchi ambiti, possiamo dire, nell'area tecnica tocca tutte le aree di igiene degli alimenti, poi si divide in due aree professionali, uno di cucina e uno di sala bar. Credo, per quanto posso vedere, per quanto la classe ha mai due anni che ci conosciamo, che questi ragazzi si riverseranno sul tessuto lavorativo con ottimi risultati.